Amici telespettatori ed amici dei social, in queste puntate di Senza Bavaglio mi sono dedicato molto al governo, alla valutazione dell'operato dei 5 Stelle di Di Maio in modo particolare. Diciamo che su sei puntate che ho registrato due riguardano il Movimento 5 Stelle e avevo deciso di non parlarne più, nel senso che di dare spazio ad altri argomenti, ad altre problematiche certamente importanti, però poi alla fine devo dirla tutta, sono rimasto davvero agghiacciato, incazzato nero, passatemi questa espressione, quando ho pensato alla situazione dei rider che sono stati proprio ingannati da Di Maio, chi sono i rider? I rider sono quei giovani, quelle persone, i ciclofattorini per capirci, che consegnano cibo a domicilio per conto delle varie multinazionali del cibo. E quindi come Fudora, come Deliveroo, Glovo e Just Eat. Al momento del suo insediamento, come ministro, Di Maio disse, volle incontrare proprio questi rider, e l'incontro aveva un valore importante, era simbolicamente molto forte, cioè Di Maio voleva dare una tutela delle garanzie occupazionali a questa gente, a questi lavoratori, far sì che questi non continuassero ad essere trattati da lavoratori di serie B. Leggo testualmente le frasi di Di Maio. Oggi inizia il percorso per avere un lavoro meno precario, diceva Di Maio accogliendo i rider di Bologna nella sede di Via Veneto, un lavoro meno precario che abbia un salario minimo orario, questo è il primo atto di un ministero che vuole tutelare le fasce più deboli. Quindi uno vede e dice, ma effettivamente davvero un bel modo di porsi, un modo che inganna, ma iniziano le docce fredde anche per i rider. Perché arriviamo alla fine di giugno e quindi siamo così nella fase del decreto dignità e a questi rider, a questi ciclofattorini che consegnano cibo a domicilio, questi ciclofattorini, questi lavoratori non rientrano nel discorso del decreto dignità, ossia quel decreto in base al quale non ci possono essere contratti a tempo determinato per più di 24 mesi, non ci possono essere rinnovi dei contratti a tempo determinato per più di 4 volte, mentre prima era 5. Insomma, queste misure apparentemente a favore dei lavoratori, che però abbiamo visto come fanno perdere 8 mila posti di lavoro all'anno, in questo decreto, dignità, teso appunto a dare dignità ai lavoratori, non rientrano i rider. E Di Maio si trova in difficoltà, i rider incominciano, non dico a sentirsi traditi, ma iniziano a dire ma che sta succedendo? E allora Di Maio cerca di ergersi a Paladino e cerca di dar vita ad un tavolo tra aziende e sindacati coordinato dal Ministero, con l'obiettivo della sottoscrizione di un contratto nazionale del rider e del loro riconoscimento come lavoratori subordinati. L'incontro è avvenuto l'11 settembre. Da quel momento in poi silenzio assoluto. Quindi Di Maio arriva, diventa ministro, poi arriviamo a giugno e c'è il decreto dignità, e nel decreto dignità i rider non rientrano perché evidentemente sono figli di un dio minore. Poi Di Maio cerca di rappezzare e dice, vediamo di trovare, facciamo un tavolo per trovare un accordo tra sindacati e aziende. Nulla, silenzio. Ve lo sto ripetendo a pappina per farvi capire meglio, fin quando poi i rider di Bologna davvero hanno le scatole piene e attraverso un posto su Facebook dichiarano, accusano testualmente Che fine ha fatto il tavolo? Siamo stanchi di attendere. Quindi il paragone con le altre promesse da campagna elettorale non mantenute dal Movimento 5 Stelle. Infatti dicono i rider, come gli abitanti delle coste salentine o delle periferie di Taranto, come gli studenti che si mobilitano ma che non trovano una corrispondenza tra le aperture di Di Maio e il testo della manovra di bilancio, anche noi rider oggi ci sentiamo abbandonati e presi in giro da un governo sempre più debole con i forti e forte con i deboli. Io non volevo parlare più di Di Maio, perché sennò sembra un accanimento, sembra un voler sparare a zero sempre su una persona. Però, scusatemi, ma questa bastardata, perché tale, di prendere per i fondelli i lavoratori, di prendere per i fondelli dei poveri disgraziati come i rider, di illuderli, di portarli al ministero, di far sentire l'odore della dignità a cui il lavoratore ambisce e una dignità di cui il lavoratore deve essere portatore, bene, dopo tutte queste belle promesse, i rider vengono trattati come una pezza da piedi, scusatemi l'espressione. Per i rider non c'è dignità, come stavano prima stanno ora, figli di nessuno prima e figli di nessuno oggi. Questo è Di Maio, un ipocrita bugiardo al potere.